Siamo ancora qua, io penso che siate anche stufi di vedermi, Galas dice di no, ma siccome Galas ha tutto l'interesse probabilmente che sia uno che fa le trasmissioni, e allora andiamo avanti, ma il problema che abbiamo sul tappeto oggi è un problema politico ragazzi, che mi fa molto meditare, ma molto meditare, allora che cosa ha fatto il governo, hanno abolito le province, allora le province che sono state abolite non è che le ha dite, oh che bello c'erano finalmente, quelli che non sono più presidenti che non ciappa i soldi, ma ora che gioia non prendo più soldi, consigli provinciali che ciapeva soldi non ciappa più soldi, tutti di un felice che non vi dico, naturalmente che questa felicità viene manifestata in varie maniere, giorni fa guardo una trasmissione e sento che ci sono alcuni rappresentanti delle province anche del sud, ma anche del nord, i quali si lamentano che non c'è più le province, che adesso gli impiegati non si sa più da chi dipende e che le ora definirla e che non è giusto, che non è giusto, che la provincia di Trento sia una provincia autonoma e che possa essere ancora provincia e che non è stata eliminata e che sarebbe opportuno, visto che si è fatto quello che si è fatto, sarebbe opportuno eliminare anche la provincia di Trento. Questo mi ha stuzzicato un po'. L'altro giorno leggo sul giornale che mi ha dato gentilmente Galas, mi pare che Economia Trentino, adesso non ricordo il titolo, cos'è Galas, era Economia Trentino? Economia del Trentino. Dove si parla che in provincia di Bolzano il prodotto interno lordo è cresciuto del 4%, in provincia di Trento invece le calà, si può dire. Allora mi ha dato preoccupazione e non vorrei che tutte queste province che sono state eliminate e con esse naturalmente i politici facessero in modo che la provincia di Trento finisse di essere autonoma con un provvedimento ministeriale. Allora ho fatto un salto nel passato, voi sapete che ho fatto politica per molti anni, prima con i liberali poi con i repubblicani, quando mi ha detto che ho fatto il Poltagabana, perché se ho passato dai liberali ai repubblicani era la stessa roba. Ma comunque delle sottigliesze, non vi dico quali sottigliesze, ma insomma tra repubblicani e liberali c'era una piccola differenza, poca. Allora c'era la regione Trentino Alto Adige, lei scusi Galas mi sta scrivendo un milione, gli abitanti del Trentino sono meno di un milione? Ah dell'Alto Adige, ma del Trentino mi può dire quanti sono quelli del Trentino? E dopo vedete che non siamo organizzati, dunque sentite, la regione ha un milione e 58 mila abitanti, la regione, adesso sta guardando della provincia e sarò più preciso, ma mi è nata questa rimembranza. Quando nel 75-80, non ricordo esattamente, si è deciso che la regione Trentino Alto Adige, che era stata fatta con l'accordo dei Gasperi Gruber dopo la guerra e che quindi aveva una sua ragione non solo nazionale, ma internazionale, perché noi avevamo perso la guerra, avendo perso la guerra siamo stati quelli che dovevano subire quello che hanno subito, eccetera, eccetera, eccetera. De Gasperi era riuscito, ecco il dato, ecco il dato, allora sono 538 mila 058, non stai dirmi che non sei precisi perché guarda che roba impressionante. Allora 535,038, 058. Questi sono gli abitanti del Trentino. Allora veniamo al salto indietro. Il salto indietro è che a un certo momento la provincia di Bolzano ha incominciato a premere perché costava con Trento la che rompeva, quelli di Trento a un certo momento sono stati anche lusingati, allora non per essere il solito profeta. ho detto ragazzi, ma cosa andiamo a dividersi? Che prima o poi ne rompe i baloni perché quelli di là resterà là e noi nemmeno rischio di essere incorporati nelle altre regioni. Parlo di qualche anno fa. Non ditemi che sono stato profeta perché non mi piace, però io allora mi ero battuto per questo. Oggi forse bisognerebbe fare una meditazione. il tutto avvenne nel 1972, il nostro Galas mi precisa, vedete? Allora è stato nel 72. Non mi ero però sbagliato. È tanto Galas, avevo parlato del 70-80. No, la memoria la teglia ancora. Non solo il respiro ragazzi, la memoria. Allora, avanti. 1972. Nel 1972 c'è stata questa problematica. ci dividiamo o rimaniamo una regione intera? E lì c'è stato l'Alto Adige, faceva pressioni perché tutto sommato la presenza dei Trentini nella Galera Vem, le solite cose. Ma la Favolano ha fatto le due province. adesso che cosa fareste voi? Che cosa fareste voi, che siete il popolo? Correreste il rischio di essere inglobati e distrutti come tutte le altre province o di fare un'opzione per diventare ancora la regione Trentino-Alto Adige? Personalmente io rifarei la regione Trentino-Alto Adige, ragazzi, rinuncerei all'autonomia subito, domani mattina. Il problema è che sarà l'Alto Adige che non ci vorrà più. Perché dirà, no, no, resti là voi altri. Se quattro teroni, i gavet la testa come quegli altri, un po' meglio, ma siete sempre italiani. Questo mi preoccupa però. Io credo che se si dovesse avere, come è che posso dire, non so, essere dei marchionne politici, no, una vera cosa, essere dei marchionne politici e fare un'operazione intelligente bisognerebbe fare in modo che la regione ritornasse come prima, perché se la regione tornasse come prima avrebbe, secondo mio parere, può darsi che non sia preciso però, avrebbe le caratteristiche della sua nascita, perché è nata dal patto De Gasperi-Gruber, internazionale, non è stato fatto dopo la guerra a tavolino con tutti i grandi capi del mondo vincente e del mondo sconfitto. Lo so, lo so, qui bisognerebbe fare anche un'operazione politica, che lo so, tipo quando si disegnava in volte la democrazia cristiana e tapeva il naso e disegnava. Probabilmente bisognerebbe tutti puntare sul partito autonomista tirolese, sul patto. Tapparsi il naso, non guardare seghe l'ottobre Giuliani, quell'altro è creare un partito veramente forte, un partito del Trentino, un partito autonomista trentino che se per caso dovesse succedere veramente si potrebbe fare, non dico una rivoluzione, ma quantomeno una sommossa popolare. Certo che è qui che è abituato a votare per il partito, poi è abituato a votare per l'altra, non lo so. Io avrei finito le mie previsioni e le previsioni profetiche, che è qui due là che ride tutti e due, come per dirsi un po' magari in arte se io ascolto, no no, sarò inascoltato, tranquilli. Però, però, se domani dovesse succedere qualcosa potreste anche che dirà il Tamanini e la via a te. Vi saluto alla prossima. Grazie.